Buongiorno in diretta per l'edizione, la prima edizione del Tg di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il sito www.nettunotv.tv. Subito parliamo della visita del Ministro Orlando, Ministro della Giustizia, candidato alla Segreteria del PD in visita a Bologna in occasione di un convegno del quale ci occuperemo tra poco. Ma la prima tappa bolognese è stata dedicata all'incontro in diocesi con l'Arcivesco Monsignor Matteo Maria Zuppi per parlare di alcuni temi, soprattutto dei temi legati ai carcerati e il contrasto alla povertà. Il nostro direttore Francesco Spava ha realizzato un'intervista esclusiva. Ministro, oggi è anche un incontro qui nella Caritas, è incontrato anche il nostro Arcivescovo, un po' per verificare sul territorio il lavoro che viene anche fatto, proprio anche rispetto a tanti temi legati all'immigrazione e non solo. Sì, noi abbiamo sempre un tema con il quale ci confrontiamo con l'Arcivescovo da mesi, che è quello dell'esecuzione penale del carcere, quindi è stata anche oggi un'occasione anche con i volontari della Caritas per parlare di questo. Però più in generale il tema è stato sì quello della marginalità, della povertà, che vorrei fosse anche al centro dell'attenzione della politica. In questo senso anche l'impegno che sto cercando di sostenere nel campo più ampio della discussione politica va in questa direzione. Abbiamo discusso di alcune proposte che sosteniamo per affrontare la condizione di povertà assoluta e devo dire che abbiamo trovato anche molti punti di condivisione. Tema delle primarie. Si sta votando nei circoli qualche sorpresa nella Bologna cuperliana o orlandiana perché Renzi sta ottenendo in realtà un risultato che forse lui stesso non sperava nella città. Ma sì, ho visto anche questi numeri. Credo che siano anche un po' il frutto e la conseguenza della scissione. Non solo perché alcuni se ne sono andati, ma perché molti di quelli che sono rimasti come effetto di reazione hanno deciso di dare un segnale votando per il segretario. Sarà nostro impegno da qui al 30 di aprile convincerli del fatto che nessuno vuole mettere sotto scacco Brenzi e vuole in qualche modo consumare in altra via quello che non ha ottenuto la scissione. Ma viceversa pensiamo che se non c'è un cambio nella leadership del partito è il partito democratico, non le altre formazioni politiche che rischiano di andare a sbattere. Governo sereno, tranquillo, forte? Sereno è una parola grossa e tra l'altro un po' abusata, quindi è meglio che il governo non stia sereno. È meglio che il governo faccia i lavori e mi sembra che stia facendo e lavorando. A proposito del tema di quello che abbiamo parlato oggi è molto importante il fatto che stia arrivando in fondo il lavoro sul disegno di legge e sulla povertà che è una risposta attesa e che tra l'altro credo colga una grande emergenza sociale. E di pochi minuti fa un'altra dichiarazione del ministro Orlando. Entro l'estate arriverà una decisione sul progetto della cittadella giudiziaria di Bologna. Questo è l'annuncio del ministro a proposito del progetto che prevede l'accorpamento in un unico luogo di tutti gli uffici giudiziari bolognesi che risolverebbe anche il problema cronico degli spatti. Stiamo lavorando con Comune di Bologna e De Magno, ha detto, per unificare gli uffici ed evitare spese che vanno fuori controllo. C'è un tavolo aperto che va chiuso rapidamente. Prima dell'estate avremo una scelta. Passiamo adesso alla cronaca. Questa notte in via Bentini, siamo in zona Corticella, i gnoti hanno effettuato una spaccata ai danni di una tabaccheria al Civico 29. I ladri sono arrivati in auto davanti alla Saracinesca, chiusa verso le 3 del mattino e in granata dalla retromarcia. Hanno sfondato la serranda con la parte posteriore del mezzo. Residenti nella palazzina di Tre Piani che sormonta l'esercizio commerciale sono stati svegliati dai tonfi sordi del posteriore di una Golf modello Passat che fungeva da ariete appunto. Arraffati i grattevinci, sigarette e contanti del fondo cassa, i ladri sono fuggiti a bordo del mezzo ancora funzionante. Tra quanto rubato e i danni arrecati, i gestori della tabaccheria dovranno sborsare, pensate, più di 8 mila euro. E poi ancora degrado in zona universitaria. Di nuovo ci troviamo a raccontare un brutto episodio accaduto in Piazza Verdi. C'è stato un lancio di bottiglie. Così ieri sera infatti hanno deciso di passare la serata due giovani in Piazza Verdi. Il primo alle 21.30 è stato notato dagli agenti di una volante in transito mentre stava dando un'escandescenza. Si tratta di un cittadino tunisino, 23enne, completamente ubriaco, già destinatario di foglio di via, che quindi ha rimediato un paio di denunce per getto pericoloso di cose e per inottemperanza al decreto di espulsione. Mentre il 23enne aveva alzato il gomito, due ore dopo, allo stesso sport, se lo vogliamo chiamare in questo modo, si stava dedicando a un cittadino algerino di 29 anni, completamente sobrio. Più di una volta le bottiglie scagliate hanno sfiorato le persone che sostavano nella piazza. Anche per lui una denuncia per getto pericoloso di cose. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a parlare invece di un appuntamento a cui era presente il Ministro Orlando, perché di giustizia oggi si è parlato a Bologna, soprattutto in merito alle piccole e medie imprese. Un focus che voleva sottolineare come la lentezza della giustizia può danneggiare concretamente le imprese. A promuoverlo era lo studio L.S. Lexius Sinacta e l'Istituto Guglielmo Tagliacarne. Sentiamo concretamente cosa vuol dire che la giustizia incide negativamente sui piccoli imprenditori. Ce lo spiega Cinzia Barbieri, che è direttore del CNA. Certo che Bologna in questi anni ha cercato di riformare il sistema della giustizia, ma non è ancora sufficiente. Non solo per quanto riguarda, ad esempio, il recupero crediti o per quanto riguarda anche e soprattutto il contenzioso bancario, determina grandi difficoltà per le nostre imprese. Ed è evidente che questa lentezza poi determina l'impossibilità di attuare investimenti, l'impossibilità di gestire il personale, quindi chiaramente problemi di occupazione. È stato proprio raccontato dal Presidente della sezione imprese, specializzato per le imprese del Tribunale di Bologna, che anche se Bologna ha cercato di riorganizzarsi, quella sezione che è così colpita da un grande numero di cause, è ancora poco organizzata, non ci sono risorse, non c'è personale. Io credo che questo sia uno dei grandi elementi che deve essere assolutamente ricondotto a regime. Poi è chiaro che ci sono anche altri servizi, altre modalità per cercare di ottenere giustizia. Parlo della conciliazione, parlo della mediazione. CNA ha lanciato già in questi giorni, abbiamo iniziato proprio a svolgere un servizio di questo tipo, abbiamo dei dipendenti che sono iscritti ovviamente al Ministero di Giustizia proprio per svolgere l'organismo di mediazione. È un sistema effettivamente che può dare soluzioni in tempi rapidi e costi bassi, perché poi l'aspetto anche del costo della giustizia è assolutamente rilevante per le imprese, soprattutto quando parliamo di imprese di te individuali, società di persone, che ovviamente sono più in difficoltà perché le risorse economiche sono decisamente minori. Avete visto l'appuntamento in corso, si è tenuto all'interno della sala della Banca di Bologna, Palazzo De Toschi. Lì il Presidente delle imprese, la sezione del nostro Tribunale di Bologna, che si dedica a questo, ha lanciato la sua denuncia, cioè la carenza di personale, perché di fatto anche se si tratta di una sezione specializzata, in realtà deve occuparsi di tante altre cose e questo ingolfa moltissimo il lavoro e crea tanto ritardo. A parlarcene appunto il Presidente di questa sezione, Fabio Florini. Il punto è che in una materia così complessa e anche così importante per quello che viene riconosciuto per l'attività delle imprese, per le soluzioni delle controversie, eccetera, ci troviamo effettivamente che l'organico di sette giudici più il Presidente di questa sezione si deve anche occupare sostanzialmente di altre materie, i vinclusi, la materia dei fallimenti, le esecuzioni immobiliari e immobiliari e una quota ancora di ordinaria giustizia civile, però rilevante per i cittadini, interessante, abbiamo una quota sulle questioni finanziarie, abbiamo il leasing, insomma tutta una serie di materie sicuramente rilevanti e a questo dobbiamo necessariamente fare fronte in otto. Abbiamo calcolato che il tempo che viene destinato alla materia specialistica della sezione, diciamo così, suddividendo il lavoro dei magistrati e riferendolo alla specifica esperienza della materia specializzata, è inferiore a tre magistrati. A fronte di questa situazione cosa propone? A fronte di questa situazione quello che proponiamo evidentemente sarebbe quello di poter avere maggiori risorse. Il distretto di Emilia Romagna di fatto è stato destinatario di 22 nuovi magistrati, parlo di giudicanti, oltre alcuni agli uffici del Pubblico Ministero. Devo dire che però, dato che le situazioni si rincorrono, ci troviamo anche adesso a dover fare inconti con ulteriori attività di sezione specializzata, non solo un allargamento delle competenze già devolute alla sezione specializzata, ma alla creazione di nuove sezioni specializzate legate ad altre materie, in particolare per esempio il problema dei rifugiati politici, il problema delle situazioni collegate al diritto di famiglia attraverso la scelta di eliminare i tribunali per i minorenni e di creare delle sezioni specializzate all'interno dei tribunali ordinari. E questa mattina è stata presentata anche un'indagine su questo tema realizzata dall'Istituto Tagliacarne. A farcene un po' il punto è Francesco Vella, docente di diritto commerciale all'Università di Bologna. Lo ha dimostrato la ricerca dell'Istituto Tagliacarne, le imprese sentono molto la lentezza della giustizia ma sentono anche molto la qualità della giustizia e sotto questo aspetto la specializzazione con la creazione del tribunale delle imprese può coniugare questi due obiettivi, rendere le decisioni più rapide, cioè si arriva a conclusione prima e specializzando il giudice si aumenta anche la qualità delle decisioni per le imprese. Il nostro tribunale sta andando in questa direzione, cioè Bologna è meglio di altre città? I dati che ha mostrato la ricerca e soprattutto la relazione della dottoressa Magda Bianco indica che il nostro tribunale, la nostra sezione specializzata ha un grado di rapidità e di risoluzione delle controversie più rapide, è virtuoso rispetto agli altri tipi. Anche se manca personale questo probabilmente è un problema? Questo è stato anche richiamato dal dottor Florini, c'è un problema di organico. Soltanto una cosa vorrei dire, quando all'inizio si crearono le sezioni specializzate si disse senza interventi sull'organico. La recente delega al governo per la disciplina del diritto della crisi di impresa che attribuisce questa materia anche alle sezioni specializzate fa riferimento però all'esigenza di una revisione dell'organico e quindi è auspicabile che all'incremento della specializzazione ci sia anche un rafforzamento delle risorse che è indispensabile perché altrimenti si corre il pericolo che non abbia efficacia l'intervento legislativo. Generazioni insieme per un futuro di lavoro e dignità di questo si è parlato nella seconda giornata del congresso della CISL Aria Metropolitana seconda giornata conclusiva era presente per un saluto anche il Vescovo di Imola Monsignor Tommaso Ghirelli intervistato dal nostro Francesco Spada. Lei ha un rapporto particolare col mondo del lavoro possiamo dirlo, si occupa di lavoro ormai da tanti anni. Insomma la mia vocazione fin dal tempo del seminario è stata quella ciò non significa che sia aggiornato perché il mondo del lavoro cambia in fretta ecco comunque non posso certamente trascurarlo e vedo anche oltre alla mia fatica anche quella della società di oggi a fare in modo che il lavoro sia veramente diciamo un aspetto della vita non semplicemente l'occasione per fare soldi ecco ma sia un aspetto della creatività umana, della solidarietà umana ecco quindi probabilmente anche questa tanto declamata difficoltà dei giovani a entrare nel mondo del lavoro dipende da noi adulti che abbiamo delle idee poco chiare sul lavoro e quindi trasmettiamo ai giovani la nostra incertezza. Era presente naturalmente a Castel San Pietro Terme anche il segretario regionale della CISL Giorgio Graziani intervistato ancora dal direttore Francesco Spada. Il concetto su cui francamente poi è nato l'equivoco anche un po' strumentale perché lui è un ministro perché c'è voglia in questa società di strumentalizzare qualsiasi cosa è oggettivamente condivisibile. Non basta un foglio di carta a costruire come si dice la professionalità serve percorso, esperienza, proattività in questo credo che tutti noi a partire dalle politiche attive possiamo fare molto per cercare di dare strumenti a quei ragazzi e a quei disoccupati che si trovano in un momento così delicato senza lavoro. Questo deve essere assolutamente una condizione su cui noi dobbiamo dare priorità. Se poi però ci mettiamo che si parla tanto, magari a sproposito perché le battute comunque sono sempre relative e poi si fanno degli interventi poco utili e funzionali a quegli obiettivi che si dichiarano, l'esclusione e l'eliminazione dei voucher è di per sé un errore strategico perché ci sono alcuni tipi di lavoro che sono neri, ovvero sommersi, ovvero non c'è regolarità di rapporto di lavoro che peraltro però sono lavoretti che non si riescono a regolarizzare diversamente che avevano bisogno di un sostegno regolatorio, accessorio. I voucher abusatissimi sempre per errori della politica avevano quel tipo di indicazione, bastava regolarli meglio come aveva pensato Biaggi nella loro genesi. Un passaggio sulla cultura, in particolare la raccolta Lercaro che aprirà una nuova mostra, si tratta di Paolo Manaresi, colori dell'inquietudine. La mostra aprirà il 2 aprile e si concluderà il 2 luglio. A farci il punto di quello che potremmo ammirare è Andrea Dall'Asta, direttore della raccolta Lercaro. Questa mostra mette in rilievo, mette in luce, fa affiorare una produzione straordinaria, pittorica, costituita da oli, tempere, pastelli in cui è possibile riconoscere un episodio centrale dell'arte italiana del Novecento. Passando da quelli che sono i mondi degli affetti, la rappresentazione dei ritratti della moglie, dei genitori, a rappresentazioni di paesaggi, nature morte, a passare a una produzione più di carattere religioso, aspetto che è stato praticamente sempre ignorato dal mondo della critica, fino alle destrutturazioni degli ultimi anni, come se la forma non fosse più in grado di raccontare la vicenda umana, esistenziale dell'artista. È interessante come in tutto l'arco della produzione di Paolo Manaresi ci sia un filo rosso che accomuna tutti i diversi soggetti e le diverse composizioni. È del tema della ricerca, il tema dell'inquietudine, dell'irriacquiettezza. È come se Paolo Manaresi, di fronte, nell'arco di tutta la sua produzione artistica, fosse di fronte sempre alla domanda perché il dolore, perché la sofferenza, qual è il senso della vita. La mostra inizia con un cartolame del XVIII secolo, probabilmente una produzione ligure, molto bella, che teneva come capoletto. È un Cristo inginocchiato, è una rappresentazione che sottolinea la dimensione della preghiera, la dimensione della contemplazione, la dimensione della pietas, della misericordia. Ci fermiamo per la pubblicità, poi in studio ritroverete Francesca Bolognini per lo sport. Buongiorno di nuovo in diretta per la pagina sportiva del telegiornale di Nettuno TV. Il rosso-blu di Donadoni oggi si godono un giorno di riposo dopo le doppie sedute di allenamento dei giorni scorsi. Riprenderanno i lavori in vista di Fiorentina-Bologna nella giornata di domani con un allenamento a porte chiuse. Parliamo invece adesso di Simone Verdi. Ieri nel pomeriggio è rientrato a Bologna dopo l'esperienza in azzurro e dopo l'esordio, seppur di pochi minuti, in campo nell'amichevole contro l'Olanda ha raccontato ai microfoni di BFC TV la sua esperienza. Sentiamo. È stata una bella soddisfazione sia per me che per la società. Ora devo continuare a fare bene con la maglia di Bologna per poter riavere la maglia nazionale. Un lungo riscaldamento, forse speravi di ritrarre anche un po' prima, però alla fine la soddisfazione c'è stata. Sì, ma poi la partita se l'ha messa in un certo modo, c'era più da fare la fase difensiva, quindi il mister magari ha voluto mettermi dentro gli ultimi tre minuti per non mettermi a disagio magari in una fase difensiva in un ruolo che non è proprio il mio. In queste settimane hai dimostrato a Ventura e ai compagni di nazionale di poterci stare assolutamente in questo gruppo. Sì, abbiamo lavorato bene, è stato bello anche allenarsi con loro e vedere il modo che hanno di allenarsi certi campioni e riesci a capire soprattutto perché stanno ad alti livelli per tanti anni. Abbiamo fatto un lavoro prettamente tattico, soprattutto tattico, perché ci sono pochi giorni per poter preparare le partite e poter insegnare movimenti di vuole lui ai giocatori nuovi, però sono stati dei bei dieci giorni che mi ricorderò per sempre sicuramente. Si ricorderà anche la città di Bologna perché dovresti essere orgoglioso del fatto che hai rappresentato questa città, i tifosi del Bologna e questa maglia in ambito internazionale e la tifosina da questo punto di vista è assolutamente orgogliosa di te. Sì, sono orgoglioso e spero di poter essere orgoglioso ugualmente anche in futuro portando la maglia del Bologna in nazionale. In bocca al lupo a Simone Verdi, adesso passiamo al basket, alla Fortitudo. Continuiamo a parlare di mercato, continuiamo a parlare di cinciarini perché se da Caserta arrivano voci di smentita sull'offerta e sulla trattativa, anzi che ci sarebbe tra il giocatore e la Fortitudo e c'è il massimo riservo sulla questione, da Bologna invece sponda Fortitudo arrivano altre notizie, ovvero quelle che ci sia già l'accordo tra Fortitudo e giocatore e a questo punto mancherebbe soltanto veramente il placet della Corte federale per poter sbloccare l'intera operazione. E invece vi ricordiamo che questa sera c'è una tappa importantissima degli Harlem Globetrotters, noi vi avevamo già fatto vedere con Giacomo Bianchi per chi ci sta seguendo in televisione, lo state vedendo in questo momento due degli Harlem Globetrotters che avevano fatto una piccola esibizione a San Lazzaro alla palestra Rodriguez, ma questa sera è la sera e saranno al Paladozza gli Harlem Globetrotters per lo show che deve essere davvero una cosa molto molto particolare e soprattutto ovviamente spettacolare quindi se avete i biglietti, se non li avete ancora presi, insomma cercate il modo perché deve essere davvero una cosa molto molto bella e particolare. Era la nostra ultima notizia, il telegiornale termina qui, la seconda edizione della TG di Nettuno TV questa sera alle 19.15, grazie alla regia di Nicola Salerno e grazie a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.